Mani in alto! Entrambe le braccia devono essere in posizione verticale l'una all'altra! Cain! Stiamo derubando una c***o di banca! Pazzecole! Ci stiamo avventurando in una banca, Pomni! Sta al passo! Su! Riempi subito questa borsa di banconote immacolate! Ma prima sistema sto quadernetto in modo che sia perpendicolare all'estremità della tua scrivania e metti immediatamente a posto quei fogli e raddrizza subito quel c***o di angolo, idiota! Chi se ne frega dei soldi? Prendete tutti una scopa, diamo una bella pulita a questo posto! E ciò dimostra che non si può fare mai affidamento su Kinger